Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi desidero farvi un breve tutorial sull'alfabeto fonetico NATO, ovvero quell'alfabeto che utilizzano piloti e controllori del traffico aereo per poter comunicare senza fraintendimenti fra di loro. Avevo già realizzato questo video, solo che mi sono reso conto che non è un granché, anche perché è un video molto molto vecchio. Questo alfabeto è molto utile nella fase di formazione del PPL e della TPL perché appunto la conoscenza di questo alfabeto è essenziale per poter eseguire le comunicazioni tra appunto piloti e controlli del traffico aereo. In questo video vi proporrò sia la pronuncia corretta in inglese dell'alfabeto fonetico che anche dei piccoli loghi che vi servono nella fase iniziale per poterli memorizzare. Il mio consiglio, se state imparando l'alfabeto fonetico, è quello di esercitarvi nell'ascolto e nella successiva pronuncia dell'alfabeto, anche perché non parleremo soltanto delle lettere ma anche della pronuncia dei numeri. Bene, non mi resta che lasciarvi a questo breve tutorial che spero apprezzerete. La corretta pronuncia dell'alfabeto, secondo accenti e cadenze, costringe la pronuncia ad una voce un po' automatica e a tratti anche divertente. Ho fatto del mio meglio per proporla secondo la cadenza prevista e ho lasciato anche un vuoto dopo ogni lettera in modo tale che chi si sta esercitando nella pronuncia abbia il tempo di ripetere ogni lettera. Iniziamo. Alfa Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel India Juliet Juliet Kilo Lima Mike November Oscar Papa Quebeck Romeo 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 Tango Uniform Victor Whisky X-Ray X-Ray Yankee Zulu Zulu Abbiamo visto la pronuncia delle lettere. Adesso passiamo alla pronuncia dei numeri. E non soltanto dei numeri, ma anche dei decimali e dei numeri più grandi di cento. Zero Zero One One Two Two Three Three Four Five Six Seven 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 Nine Niner I numeri con la virgola vengono pronunciati anteponendo il numero seguito da decimal seguita dalle cifre decimali. Vi ricordo che nella numerazione inglese, in uso in aviazione, la virgola è sostituita dal punto. Tutti i numeri maggiori di 9 devono essere scanditi cifra per cifra, per cui 10 diventa one zero. E così via fino al 100. Il 100 infatti si pronuncia one hundred. E anche i suoi multipli, quindi avremo two hundred, three hundred, e così via. Mille e i suoi multipli si pronuncia thousand, quindi avremo one thousand, two thousand, three thousand, e così via. Esiste un'eccezione nei numeri composti da migliaia e centinaia, come in questo caso. 1500 si pronuncia one thousand five hundred. 15.000 invece si pronuncia one five thousand. Bene, il video termina qui, spero sia stato interessante. Se lo è stato vi invito a mettere mi piace, a condividerlo con i vostri amici, e se avete dei dubbi, dei suggerimenti o delle domande vi invito a commentare sotto il video. Vi invito anche a passare dal mio canale Telegram, dove pubblico informazioni inerenti all'aeronautica civile e anche informazioni sull'andamento di questo canale. Come sempre, non posso che ringraziarvi per la vostra attenzione e vi do appuntamento a un prossimo video. Grazie. 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 Grazie.